Martina-Sammarino, esordio casalingo per gli uomini di Pinna contro una neopromossa di lusso. Tutta l'Italia calcistica attende il primo impegno della compagine della Piccola Repubblica, giunta per la prima volta nei professionisti. Al quarto, Lomasto apre le marcature, seguite poi da un gol di Valà con un gran tiro da fuori area. Accorcia per il Sammarino Torresani, la sua è un'esecuzione perfetta di un calcio piazzato. Dopo un minuto Buonamano ristabilisce la doppia distanza portando il risultato sul 3-1. Nella ripresa Paolo Rossi porta due le reti degli ospiti che operano un vano forse in finale dove si vedono annullato anche un gol a gioco fermo, l'arbitro aveva già fischiato. Primi due punti per il Martina, direttore di gara Montalcini di Crotone.